Con il tempo ho iniziato a capire che cantando riuscivo ad esprimermi meglio di quanto non lo facessi parlando. Quando ero più piccolo ho avuto delle compagnie sbagliate e mi sono fatto influenzare da persone molto vuote. Sono diventato vuoto anch'io. E invece la mia famiglia non mi ha mai fatto cadere per terra. I miei genitori mi hanno sempre... mi hanno sempre sostenuto. Io ho iniziato a suonare per strada quattro anni fa. Col tempo ho capito che la musica è l'unica cosa che mi avvicina alla felicità. Per questo faccio musica. Quando ho cantato ho messo tutta l'energia, tutta la paura che avevo prima di entrare. L'ho canalizzata per poi farla esplodere. Mi sono divertito un sacco. Ricevere il videomessaggio dei miei genitori è stata una cosa stupenda. Ciao Flavio, siamo qua oggi per salutarti, per augurarti buona fortuna. Perché i miei genitori sono delle persone che mi hanno insegnato l'amore incondizionato. Lo voglio vincere questo programma, sì. Perché la musica è l'unica cosa che ho ed è quello che al 100% io voglio fare. La la luna La la luna La luna La luna La luna